Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicce e il Bibio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A12 per lavori, code a tratti tra Versilia e il Bibio per il raccordo Lucca-Viareggio. Sulla FIPILI rallentamenti per lavori in direzione mare tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggi-Bonsi Sud in uscita in direzione Firenze. Sulla Statale 665 Massese è provvisoriamente vietato il transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate dal km 75 al km 86. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!